Le teleangiectasie degli arti inferiori sono un inestetismo che ai nostri giorni possono essere trattate anche con la laser terapia e con un trattamento specifico che viene denominato trattamento endoperivenoso con laser 808 a diodi. Che cosa consiste questo trattamento? Il trattamento viene effettuato utilizzando una fibra ottica da 150 a 200 micron a seconda delle dimensioni del nostro capillare e viene introdotta questa fibra attraverso il piano epidermico e il piano dermico fino a raggiungere il capillare che viene coagulato e viene distrutto dal raggio laser proprio con il contatto diretto della fibra con la teleangiectasia. Non occorre preparazione, è un trattamento ambulatoriale e non lascia conseguenze a livello del piano epidermico della nostra paziente. Grazie.